E' stato siglato nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze un protocollo d'intesa tra Regione e Associazioni di Categoria per dare impulso alla conoscenza delle tecnologie di Industria 4.0. A firmare sono stati gli assessori all'istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco e alle attività produttive Stefano Cioffo, con Confesercenti, Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, LegaCop, AGCI, CNA, Confartigianato, Confservizi, CISPEL, mentre Casa Artigiani ha annunciato l'adesione, obiettivo favorire l'apprendimento e le competenze richieste dalla trasformazione digitale. Ci sono anche tante opportunità formative con quello che chiamiamo il duale, spesso poco conosciute perché si può per esempio assumere in apprendistato di terzo livello uno studente universitario, uno studente anche di scuola superiore che mentre lavora, quindi mentre è inserito nell'organico acquisisce il titolo di studio. Tra gli impegni assunti con il protocollo, la collaborazione in workshop, i voucher formativi per i manager, la condivisione di strumenti sulla piattaforma Cantieri 40 per le imprese, ma anche la formazione dei lavoratori, i 59 corsi di alta formazione ITS e IFTS finanziati dalla regione appena partiti per formare i supertecnici richiesti dalle imprese e i 20 corsi di formazione per gli imprenditori. Il trasferimento di competenze dai centri di competenza di formazione alle aziende è il tema di questi anni. Con quali strumenti riuscire ad avere risultati efficaci è la domanda che ci siamo posti, soprattutto a valle della rilevazione del grado di innovazione tecnologica presente nel mondo delle imprese toscane.